Ciao amici, eccoci anche oggi in diretta, in questa settimana in cui parliamo ancora di prodotti per esporsi al sole. Qui adesso stamattina è arrivato un temporale piove, da voi com'è il tempo, perché in tanti siete già partiti, siete già via, siete già lontano, vi sono in montagna, piove, ma al mare il caldo continua in perterrito, tanti partiranno questo weekend e è previsto caldo anche qui. Quindi per chi va in piscina, per chi va al mare, abbiamo parlato di protezione per la pelle, quindi sotto forma di creme, di spray, come integratore e ci mancava una piccola kickass che fa sempre parte della nostra promo Solari come spray protettivo per i capelli. Soprattutto chi ha i capelli con i colpi di sole, tinti decolorati, capelli comunque secchi, delicati, fini, non può mancare un prodotto protettivo per i capelli. Questo è fantastico, sia da utilizzare proprio durante l'esposizione al sole, perché spesso capita, chi ha i capelli tinti lo sa, tornate dalle vacanze cambia il colore, la tinta si perde, proprio perde la luminosità, il capello biondo diventa un color paglia, quindi i filtri solari sono indispensabili anche da utilizzare proprio sui capelli. Oppure perfetto e fantastico per chi va in piscina, quindi per proteggere il capello dal cloro, o da vaporizzare proprio per aiutare a pettinare il capello, anche da utilizzare con le piastre, con i prodotti che per la messa impiega. Quindi è un prodotto che si può utilizzare perfetto per l'estate, ma anche poi se vi rimane durante l'anno è proprio ottimo. Non è oleoso, quindi si vaporizza direttamente così sui capelli, lascia il capello proprio morbido, setoso, lucido, ma non è un olio, quindi il capello non rimane unto, pesante, impattaccato, anche i capelli fini, leggeri, va benissimo. Il capello contiene una parte di pantenolo, creatina, vitamine che vanno a rinvigorare il capello, a rinforzarlo, a creare questa patina protettiva a livello esterno, e i filtri solari, in modo da mantenere inalterato il colore della nostra tinta, quindi che i capelli tinti, decolorati o biondi, sa benissimo che il sole è deleterio. Quindi filtri solari, non solo per la pelle, non solo per il viso, ma anche per i capelli, quindi ricordiamoci che anche i capelli vanno proprio protetti. Si porta tranquillamente in spiaggia, la confezione è spray in plastica, quindi non c'è problema, potete portarla anche con voi, vaporizzato sui capelli la mattina, oppure ogni volta che poi uscite dal bagno, quindi anche sul capello umido, bagnato, va benissimo, proprio fa questo film protettivo sul capello senza appesantirlo, anzi lo lascia bello lucido, bello morbido, ha anche un buonissimo profumo. Anche questo fa parte della Promo Solari, quindi se scegliete un prodotto protettivo per i capelli, insieme a una crema, uno spray, un dopo sole, un prodotto della linea proprio protettiva, avete poi in omaggio l'acqua solare spray che vi ho già mostrato come rinfrescante. Quindi questa non contiene filtri solari, quindi va bene proprio come rinfrescante, come idratante, mentre questo specifico per i capelli non me l'avevo ancora mostrato, quindi vi ho raccontato ormai tutto dei nostri solari, dei nostri integratori per mantenere la bronzatura, per migliorare proprio la bronzatura, renderla più bella, più luminosa, più dorata. E oggi vi ho parlato anche proprio del prodotto per i capelli, quindi perfetto, più che capelli tinti, colorati, decolorati, biondi, o anche solo perché il capello è comunque secco, fine, crespo, che comunque con il mare, con il cloro e con il sole, se vogliamo evitare di tornare a settembre e dover dare una tagliata per tagliare le doppie punte, proteggiamo anche i capelli, quindi con lo spray, con bandane, cappelli, ma nel momento in cui andiamo a fare il bagno o ci piace proprio stare liberi sotto il sole, spray protettivo, questo è proprio fantastico, perfetto proprio per tutta la famiglia, anche per le bambine che hanno i capelli lunghi, fate fatica di strecare, spruzzate di questo e vi aiuta proprio anche a pettinare i capelli. Quindi ottimo, fantastico, se volete informazioni scrivetemi o se volete prenotarlo scrivete su whatsapp, il numero è sempre il solito, 388 88 45 700, poi sapete che io raccolgo le vostre domande e di solito il venerdì rispondo alle vostre questioni, quindi questa era una delle domande che mi avete fatto, oltre la pelle come faccio a proteggere i capelli, e questo effettivamente non ve l'avevo ancora mostrato. Se ha qualsiasi altra domanda o informazione scriveteci, scriveteci su whatsapp che siamo a vostra disposizione, vi rispondiamo poi appena possibile a ogni dubbio, oppure se volete commentare chi ha già provato, mi faccia sapere come si è trovato. Io l'ho provato in piscina settimana scorsa, ottimo, buonissimo, buonissimo il profumo, il capello rimane morbido e appunto rispetto a tanti altri prodotti che avevo già testato, ma che erano oleosi, unti, pesanti, questo è proprio fantastico perché il capello non sembra di aver messo un problema, non rimane pesante, io ho il capello comunque biondo, un po' fine, se metto prodotti un pochino corposi, mi si appesantiscono subito, invece questo li ha resi proprio belli morbidi, lucidi, ma non è unto, non è untuoso, quindi si può proprio sfruttare e vaporizzare sui capelli anche proprio più volte al giorno, perché è proprio piacevolissimo da utilizzare. Fatemi sapere chi l'ha già provato e come si è trovato, oppure scrivetemi su whatsapp per ogni domanda. Intanto vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo al solito orario fino a fine di luglio. Poi qualcuno mi ha già chiesto, quando siamo chiusi? Chiuderemo dal 14 al 28 di agosto, quindi fino al 14 di agosto ci trovate e siamo qui, ma per qualsiasi domanda scriveteci su whatsapp che vi rispondiamo. O se volete prenotare i vostri prodotti prima delle vacanze o per riceverli, anche mentre siete in vacanza, scriveteci che vi possiamo mandare tutto anche con il corriere. Tanto chi è già in vacanza, buon proseguimento di vacanze, per chi deve ancora partire vi aspettiamo per venire a prendere i vostri prodotti solari. Ciao, buona giornata a tutti!